Il cambiamento è come un'opera d'arte. Richiede tempo e richiede pazienza. È come un quadro quando prende forma. Non è che nasce subito così, all'improvviso. All'inizio c'è l'incertezza, è come avere davanti il foglio bianco. È normale sentirsi smarriti in quel momento, anche non sai bene da dove cominciare, ma quello è anche il punto di partenza per creare qualcosa di nuovo. Dopodiché arriva la fase della accettazione, della progettazione. Cominci a vedere un disegno, a capire che il cambiamento è possibile e che è meglio abbracciarlo piuttosto che lottare contro tutte le paure che ti crea. Ma tutto questo è inutile se non passi all'azione, se non inizi a definire quali passi percorrerai per arrivare dove desideri. Solo così arriverà la realizzazione. A quel punto il cambiamento è avvenuto e puoi ammirare il risultato del tuo lavoro. Chiaro che tutto questo funziona se sai come muoverti, se sai come affrontare le sfide e gli ostacoli sul tuo cammino. Perché è solamente con un piano, con una definizione di un cammino che puoi riuscire ad affrontare l'incertezza, a cavalcarla, superarla. Scrivici nei commenti cosa senti che ti sta impedendo di realizzare il cambiamento professionale che vuoi.